Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono Scott, sono americano negli Stati Uniti. Oggi parliamo un po' su varie cose e sì, andiamo. Credo che sono passati un paio di mesi e non ho fatto un video durante questo periodo. Non lo so perché, ma oggi farò un video. Sono passati cinque mesi da ho iniziato a studiare l'italiano. Credo che il mio livello di parlare in italiano è molto più avanzato rispetto del mio livello prima. Infatti è molto più facile dire quello che voglio dire. Sono una persona molto ossessionato e quando ho iniziato a studiare l'italiano ho diventato totalmente ossessivo. E questa ossessione ha rimasto durante questo periodo. Ogni giorno guardo un paio di video, oppure tanti video, in italiano, con i sottotitoli. Ho trovato un plugin per il mio browser. E questo plugin, non so le parole in italiano, però, un plugin. Questo plugin fa facile per me, makes it easy, per me, a vedere insieme, allo stesso tempo, i sottotitoli in inglese e anche i sottotitoli in italiano, insieme, allo stesso tempo. E poi è molto più facile capire e leggere e sentire tutto ciò le persone ha detto. Questa settimana ho trovato una canzone in italiano, si chiama Come stai? E questa canzone è molto molto divertente per me. Infatti, questa canzone è la prima canzone che ho imparato in italiano. E so, lo so, e non è possibile capire questo, Però, per me, la musica italiana, prima di ascoltare di questa canzone, la musica italiana è stata un misterio per me. Un'altra cosa che ho fatto in questo periodo è guardare video in cui le persone parlano molto molto velocemente. E quando le persone parlano in questo modo è molto difficile capire per me. Perché le parole muovono insieme e suonano come un casino per me. Però, pian piano, è possibile capire tutte le parole in questi video. Mi ricordo che è un video in particolare in cui una ragazza ricontava un po' su un hotel. E durante questo video ci sono, c'erano tante parole nuove per me. E ho scritto una lista, una lista di queste parole. E ho studiato questa lista molte volte e dopo ho guardato questo video. E le parole vengono un po' più facili per me, per me capire. E pian piano diventa più facile capire, sì. Vorrei raccontarvi un po' su un periodo durante cui... Durante qui, come si dice, ho sentito un po' distrutto, un po' male, per quanto riguarda l'italiano. E il mio progetto è il mio progetto è il mio progetto di impararle, impararlo. E durante questo periodo ho fatto una lezione ogni giorno con un insegnante, un'altra insegnante ogni giorno. Ad esempio, lunedì con Beatrice, martedì con Mattia, venerdì con Aaron, eccetera, eccetera. Però ogni giorno ho fatto una lezione. E poi dopo due settimane oppure tre settimane ho trovato che mi sono sentito distrutto perché era troppo per me. E quindi ho deciso di fare una quantità di lezioni molto più... molto meno. La mia vita era troppo piena di lezioni ogni giorno, ogni mattina. E in questo periodo, adesso, ora, faccio, normale, tre lezioni ogni settimana. Con Beatrice e Elisa e anche qualcun altro, ad esempio, Aaron, oppure Mattia, oppure Marco, ad esempio. E queste persone per me sono molto molto gentili e trovo questa strada, questo percorso tre volte per settimana per me e credo che sia esattamente perfetto. E anche a volte durante la settimana, durante le settimane, faccio una conversazione con una persona che non è un insegnante. Infatti, è una persona che ho trovato, che ho incontrato su un gruppo Telegram. Telegram è un'applicazione per computer in cui le persone possono fare messaggi e fare messaggi scritto, oppure messaggi a voce. E, sì, è molto utile. E da questa applicazione ho incontrato un ragazzo. E questo ragazzo è un italiano. E credo che sia di Roma. E ci facciamo chiamati insieme su Skype. Siamo, infatti, language partners. Non so come si dice in italiano. Però è molto divertente perché parliamo su tanti argomenti e lei parli in italiano e anche in inglese e anche io parlo in italiano e dopo in inglese. Anche sto lavorando sulla mia pronuncia di doppia R. È molto difficile per me e anche per noi americani perché non esiste questo suono in inglese. e ho trovato che dopo tanti, 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 tante volte è possibile per me riesco a fare in un modo giusto non è esattamente corretto però credo che è molto meglio rispetto di prima. Quando faccio pratica con questo suono suona come questo vorrei 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 a Roma vado a Roma a Roma arrabbiata 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 è molto più facile è molto più facile fare questo suono quando è un la lettera O ad esempio vor 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 vorrei 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 è molto più difficile fare questo suono questo suono quando è un suono come i r oppure e r r r r r r l' anche è più facile dopo la lettera U u u u u u u u u re vorrei vorrei tradurre vorrei tradurre ok ragazzi credo che sia tutto per oggi vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima video. Ciao!